riprendiamo subito da dove ci siamo lasciati nell'ultimo video per andare avanti bestiaro aggiornato con il boss di adesso prendo la vita anche se non ne ho comunque bisogno ma per sicurezza allora stordire i nemici la barra di stordimento dei nemici si trova sotto quella della loro salute quindi è la la barra rossa sotto quella gialla la barra si riempirà quando subiranno attacchi rapida successione e una volta riempita il nemico sarà stordito gli attacchi con le frecce e quelli a mani nude infliggono maggiori danni da stordimento ma quindi io posso tirare fuori l'arma oppure no vediamo adesso a cazzo a capire la situazione bella vivo un botto assurdo e che vuoi fare guarda con lo scuro di meno però con lasciati attento proprio quindi preferisco lasciare un'altra stordimento al momento beh vai ancora pesante leggero ehi ehi che bello ah potevo fai di r3 non l'ho visto ah qua c'è la vita ma non mi serve quindi te la lascio volentieri spaccamo tutto no queste porte non si aprono eh zitto mi sembra un sacco stronzo comunque caratos col figlio non so se è un bene o un male insomma eh no non le rompo quindi se sale guarda 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 un po' mi va ammazzo ehi vento a fretta adesso si però no sacco sacco bello non ho visto l'altro non le rompo intendo l'ho preso con l'altro per troppo eh che bonita eh capo no per far sta massina ho presa anche in caso soltanto che adesso non vedo più quello che è, ecco adesso posso correre, oh il ghiaccio? probabilmente dovrò farlo a mano questo, ne so convintissimo ne lo sapevo, ovviamente armadi di ghiaccio contro il ghiaccio, attenzione eh, non te sei per terra, quello che viene nessuno c'ha scampo tanto, l'ha ammazzata tutto ma sti torci per terra si possono raccogliere o niente vestire aggiornato e se va avanti, come se va avanti, così probabilmente torno a casa, come missione principale siamo arrivati il fuoco ha bruciato il giardino di mamma, da quando i drogher si avvicinano a casa? e cos'era quella cosa di ghiaccio? non lo so, ora sta zitto, siamo quasi a casa entra ragazzo ogni ghiaccio il grazie che ci sono ok siamo dentro casa posso fare qualcosa oltre a interagire con Atreus no non penso hai perso il controllo quel coso voleva ucciderci anche tu ti arrabbi quando combatti la rabbia può essere un'arma se la sai controllare e usare ma tu non ci riesci quando per... è da tanto che non sto male sto meglio ora va bene forza allora devo colpirti? voglio che ci provi vai che fai? riprovaci perché fai così? sei lento di nuovo smettila fiacco ancora ancora smettila la tua rabbia rischia di acciacarti il nostro cammino è difficile e tu Atreus sei tutt'altro che pronto cosa? zitto vieni fuori è inutile che ti rintani lì dentro io so chi sei chi c'è là fuori? tu lo conosci? ma soprattutto io so che cosa sei presto vai lì sotto ora mi avevi proibito di andarci ma chi è? non lo so e di cosa parla? non lo so forza dimmi solo quello che voglio sapere evitiamo spargimenti di sangue ti credevo più alto ma è proprio te che cercavo sei lontano da casa o sbaglio? che cosa vuoi? tu la sai già la risposta a questa domanda qualsiasi cosa cerchi io non ho niente te ne devi andare e io che credevo che la vostra specie fosse più illuminata che voi foste migliori di noi più intelligenti invece tu ti nascondi qui nella foresta come un gran codardo non ti conviene combattere non vedo l'ora di farlo fuori dalla mia casa tu dovrai ammazzarmi se vuoi che sparisca te l'avevo detto non importa tu non mi ascolti no 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 luna tocca a me che delusione incredibile batti sotto a me e questo che è una bestia è una bestia adesso vedrai schivata colpo pesante colpo leggero testello pezzi di verde no 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 ci piacerebbe amore no no non posso no no ma l'animazione assolutamente però è stato un sacco finito però c'è un lotto più debito questo è molto alla pari no no dai 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 ce la fa ce la fa ce la fa vai attacca attacca vieni qua amore dai vieni qua a cazzo non l'ho preso ma te chi ha presa guarda tu guarda tu guarda c'ha paura eh ma li faccio così vediamo un po' se funziona meglio teee preso teee e ridi anche sicuramente ci ammazza la fine però intanto me la sta becchiata dai ma mamma le sto vincere ma dimmi ciò che voglio e le tue sofferenze finiranno perché ci sono due e lei vai vai ancora vai vai più forte sì guarda che spettacolo tanto bello no muori dalla mia casa ho trovato un punto debole eh no no quel albero bastardo che spettacolo non 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 però questo è tutto è che è che possa trovare adesso combatto da incazzatissimo non non ma non 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 tipo il lock no c'era lock tanto non 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 se posso se posso se lascia però combattere questi formani è fantastico infuriato ho messo il lock per favore tienilo no però non ho tempo per questo fiasco tascia eccola qua bravissima inutile no ti arriva l'abbia tre bastardo io ho fatto anche il ferry mi sono un sacco arrivato eh da dietro i trappolori no no nulla parato merda è tantissimo cinematografico e io ho tempo per questo dai ci sono no ah si allora che storia che spettacolo adesso si riazza sicuro salati tipo un dio un semidio un cazzo dio però assurdo e anche molto bello c'è mi servivano solo delle risposte ma tu hai fatto l'eroe non mi importa che mi farai io mi rialzerò sempre quel corpo ormai vecchio cederà ma prima sappi che non posso sentire niente di tutto questo sembra non film ma quasi eh però non è giusto questa lotta è inutile i tuoi sforzi sono inutili non doveva andare così non puoi vincere io non sento niente ma tu si eppure continui a provare io non sono mio fratello se tu mi avessi dato ciò che volevo non sarebbe venita così non sento niente cominciamo ma non sento niente sono un mio fratello Chi è il fratello e chi è lui Questa ancora mica Non ce l'ha detto Attacca attacca No 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 scusa Non volevo che chi ha attaccato per me Nooo Se non mi togliessi il lotto magari Sarebbe buono No 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 Ebbè certo cazzo Però non è possibile Ma ti pare che metti là Qualcosa che non mi ca' rompe Niente Eh te lo pare Ma tanto fa Ma che pensi Che non c'è fai No ma l'avevo anche preso No ma l'avevo anche preso Oh no. Oh no. Piano. 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 Oh no. Piano. 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 BELLA. Speriamo che tu Di quelli che ho affrontato Mi facessi finalmente sentire qualcosa Ma non puoi Speriamo che Adesso sarà finita Sicuramente no C'ha la scritta viking No spartani comunque Quindi magari Cosa devo fare Nostro figlio non è pronto Per portare i ceneri sulla montagna Non so come fare Tutto questo senza di te Allora No sicuro Entriamo e C'è lui Sicuro perché è impossibile che Possiamo stare qui Che è morto in quel modo Ragazzo Sentivo dei rumori Io Credevo Tu stai bene Sì sto bene Vieni Prendi le tue cose Ce ne andiamo Ma sono pronto Non sei pronto Ma non abbiamo scelta ora Mostrami che lo sei Lo farò Io posso capire che il figlio non è pronto Sarà un viaggio bello lui Ma è che neanche Kratos Lo sia Ma è importante Mentre la moglie Forse si Boh vabbè Io Voglio finire quel video Anche perché è stato Un combattimento intenso Spero vi sia piaciuto Se si commentate Sostenete Condividete Iscrivetevi Tutte le solite cose E alla prossima